Un Genoa concreto e pragmatico espugna l'arena Garibaldi di Pisa, conquista tre punti importanti, sale in vetta alla graduatoria a quota 7 insieme all'Ascoli, superando il Pisa con il punteggio di 1-0. Match winner il tanto criticato Caleb Ekuban che con una sua rete nel primo tempo ha permesso alla formazione di Blessing di espugnare il campo toscano. Mandiamo con ordine ricordo commosso di Gianluca Signorini a cui era dedicata questa partita capitano sia del Pisa che del Genoa. Un grande ricordo per una grandissima figura. Iniziava meglio il Pisa che sfiorava il gol con un diagonale di Ionita terminato di poco alato. Un Genoa che confermava in toto il 4-2-2-2 che tanto bene aveva impressionato in queste prime giornate. È da segnalare che anche Ekuban poi un po' in dubbio alla vigilia è stato confermato e dunque bene così. Dicevamo in porta Martinez poi in difesa ormai la linea collaudata con Efti e Payac a sinistra, centrali di difesa Dragusin e Bani. A centrocampo coppia centrale composta da Badel e da Frendrup sulle corsie laterali Portanova insieme a Gudmundson in attacco come detto Ekuban e Coda. Il Pisa ha risposto con un 4-3-2-1 con Nicolas in porta. Poi la difesa a quattro formata da Calabresi, Rus, Canestrelli e Beruato. I tre di centrocampo erano Turenoggi e Marin. Poi i due alle spalle di Torregrossa Ionita e Sibilli. Come detto un avvio piuttosto compassato da parte del Grifone che non rischiava praticamente nulla nella sua metà campo rendendosi pericoloso in contropiede. L'occasione più clamorosa al minuto 29 sull'altra quarti Coda serviva un pallone d'oro per Ekuban che compiva 30 metri e poi davanti a Nicolas, portiere del Pisa, lo scavalcava con un delizioso pallonetto. Era il gol del vantaggio del Grifone. Ancora Ekuban particolarmente attivo. Quest'oggi sfiorava il raddoppio con un tiro in diagonale terminato fuori. Ad inizio ripresa Pajac lasciava il posto a Il Sanker ricoprendo il ruolo di centrale a centrocampo con lo spostamento di Frendrup a sinistra. Poi due buoni interventi di Martinez difendevano molto bene la porta del Grifone. Continuava poi il tourbillon delle sostituzioni con Iagiello che prendeva il posto di Portanova. Coda lasciava il posto a Yalsin mentre Badel lasciava il campo per permettere l'ingresso di Galdamès. Da segnalare che poi proprio uno spunto di Yalsin al 5 minuti dalla fine costringeva Calabresi al secondo giallo e dunque era espulsione e il Pisa finiva in inferiorità numerica. sembrava una vittoria ormai in cassaforte invece al 86esimo una gran botta di Tramoni al limite dell'area costringeva Martinez a una affannosa ma efficace respinta. e dunque praticamente la partita finiva qui. Ancora lo spazio per segnalare la sostituzione con fuori Ekuban dentro Yeboah e poi a due minuti dalla fine l'ultimo vero brivido della serata la grana punizione di Iagiello con la palla che si stampava sulla traversa. Grosso brivido per i tifosi nerazzurri. non arrivava il gol ma non arrivava nemmeno il pareggio del Pisa e dunque il Genoa poteva andare a festeggiare la vittoria davanti ai suoi grandi tifosi anche questa sera all'Arena Garibaldi. Grande prestazione della squadra supportata come al solito in maniera bassiccia dai supporters Rosso-Glu concludendo un Genoa pragmatico, un Genoa non spumeggiante ma tanto concreto, un Genoa che non ha rischiato praticamente nulla in difesa, ancora un clean sheet per Martinez, dall'altra parte una squadra il Pisa ancora alla ricerca di se stesso. Questa sera la formazione di Maran ha compiuto un deciso passo in avanti almeno per quanto riguarda la registrazione della difesa invece dalla cintola in su continuano i problemi e infatti stasera non è arrivato il gol del pareggio. Successo assolutamente legittimo, limpido e chiaro per un Grifone che come detto sale in vetta alla graduatoria insieme all'Ascoli con complici le sconfitte sia del Frosinone che del Cosenza. Qualche numero, possesso palla 57 a 43 in favore del Pisa, i tiri totali 15 a 12 per il Pisa, i tiri in porta però 6 a 4 per il Genoa. Da segnalare poi i calci d'angolo 4 a 3 per il Genoa. I falli sono stati 10 a testa e poi vi segnalo i cartellini gialli sono stati 4 a 2 per il Pisa. Dunque il Grifone continua la sua striscia positiva di risultati, non sono stati impiegati i tre nuovi acquisti ufficializzati in settimana, Puskas e Strootman non erano neanche in lista dei convocati in panchina per tutto il tempo a ramo, ma insomma ci sarà spazio per tutti in questo lunghissimo campionato. Come detto una giornata che il Genoa manda agli archivi in maniera decisamente positiva. Ricordiamo che questa era l'ultima partita che si giocava con mercato aperto, mercato che verrà concluso, aggiungo io, finalmente giovedì prossimo, primo settembre per il Grifone, ormai è sulla bocca di tutti, un ultimo grande obiettivo di mercato, un difensore di piede sinistro che possa completare alla grande la già ottima rosa affidata a Blessing. non è escluso a questo punto che soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo non ci sia qualche cessione, almeno una o due melegoni su tutti, melegoni finito un po' ai margini del piano tecnico di Blessing. È tutto per questo speciale dedicato a Pisa-Genoa, noi ci sentiamo naturalmente molto presto per gli approfondimenti sulla terza giornata del campionato di Serie B e poi naturalmente anche come tappe di avvicinamento per quanto riguarda l'attesissimo Genoa-Parma di sabato prossimo a Marassi. Ancora un accenno per quanto riguarda i risultati di stasera, Benevento-Cosinone 2-1, Cittadella-Venezia 1-1, Parma-Cosenza 1-0, Perugia-Bari 1-3, come detto Pisa-Genoa 0-1 e Regina su Tirol 4-0. Domani sera il terzo turno verrà completato dal derbissimo Lombardo tra Como e Brescia. Attualmente la classifica vede in testa Ascoli e Genoa con 7, La Regina, il Frosinone e il Cosenza con 6, Bari e Parma a 5, Palermo, Cittadella, Venezia, Cagliari, Benevento e Spal a 4, Modena, Brescia, Ternana a 3, Como a 2, Pisa e Perugia a 1. Chiude il Sud Tirola ancora fermo al palo con 0 punti. Dicevamo sabato partitissima a Marassi, inizio ore 16.15, Genoa-Parma la prossima trasferta per il Grifone. Invece venerdì 9 settembre alle 20.45 per il Big Match del Barbera contro il Palermo. È tutto, grazie per l'attenzione. A prestissimo.